Foracci, bentornati o benvenuti sul mio canale. Dopo settimane di fuoco, Nintendo si è decisamente rimessa in sesto, inondando la sua utenza con una corposissima serie di annunci a sorpresa. Il 2020 è stato, per forza di cose, un anno molto particolare per quanto riguarda il mondo dei videogiochi e Nintendo più di tutte ha sofferto una parte centrale dell'anno parecchio ristagnante. Ora che però l'azienda di Kyoto sembra essere tornata a pieno regime, abbiamo una completa pianificazione di quelli che saranno i prossimi mesi, con un unico, inspiegabile buco, il mese di dicembre. Nel gruppo Telegram abbiamo iniziato a fantasticare su quale potrebbe essere la strategia della grande N per affrontare al meglio il mese cruciale delle vacanze natalizie, e in questo video vorrei estendere il ragionamento anche su YouTube. Sono curioso insomma di sapere qual è secondo voi lo scenario più plausibile, o magari quello che sperate si realizzi. Prima di iniziare lo sapete, lasciate un like e iscrivetevi al canale attivando la campanella delle porotifiche per dare un bel supporto al canale ed essere sicuri di non perdervi i miei prossimi video. Iniziamo! L'ultimo Nintendo Direct ha aperto uno scenario interessantissimo, quello del cloud gaming. Sono sicuro che Nintendo inizierà a investire seriamente su questo modello di distribuzione e possiamo aspettarci le prime novità a partire già dal breve termine. Dei rumor praticamente confermati vorrebbero l'arrivo di Resident Evil 3 Remake versione cloud, e a questo punto il mese di dicembre potrebbe essere la finestra di tempo perfetta per dare spazio a dei grandi nomi multipiattaforma di richiamo anche sulla piccola ibrida. Un approccio del genere consentirebbe di eliminare tutti i tempi di attesa necessari per la conversione su Switch, un po' come sta accadendo per Crash 4 e Tony Hawk e nel migliore degli scenari possibili, ma qui si fantastica proprio, nulla vieta di sperare in una release in contemporanea anche di un pezzo da 90 come Cyberpunk 2077. C'è sempre poi il gettonatissimo rumor riguardante la fantomatica Switch Pro. Ultimamente stanno circolando nuove indiscrezioni, principalmente sulla possibile scelta da parte di Nintendo di adottare la tecnologia dei mini-LED per lo schermo del nuovo hardware. Potrebbe insomma esserci un annuncio dietro l'angolo, una presentazione pensata per rilanciare competitivamente Switch nel mercato della next-gen, sempre ovviamente con una massiccia implementazione del cloud gaming. Non sto ipotizzando un'uscita della console a dicembre, ovviamente, ma Nintendo potrebbe decidere di sfruttare l'ultimo mese dell'anno per rilanciare al primo quarto del 2021 creando hype tra la sua utenza. Manca ovviamente un grande nome di richiamo in grado di polarizzare l'attenzione e aumentare le già sensazionali vendite di Nintendo Switch. Il problema secondo me è questo. Ammettendo anche che un big sia pronto in cantiere per essere annunciato, le grandi IP vanno trattate con il dovuto rispetto e non possono essere semplicemente svelate dal nulla per essere messe in commercio da lì a poco tempo. Siamo già agli inizi di novembre e direi che questa e la prossima settimana sono le ultime occasioni utili per sganciare qualche bomba in previsione delle vacanze natalizie. Shadow Drop vicini alla data di lancio possono funzionare con titoli interessanti ma non fondamentali, come Paper Mario o Aerial Warriors, ma non dimentichiamoci che questi hanno goduto di una campagna pubblicitaria abbastanza massiccia che ha accompagnato l'avvicinamento all'arrivo nei negozi. Proprio per queste considerazioni, ma ricordandoci anche del travagliato sviluppo che si porta alle spalle, escluderei senza pensarci un attimo un annuncio improvviso di Metroid Prime 4. La prossima fatica di Retro Studios si farà desiderare ancora per molto tempo e inizio a credere si tratterà di un titolo cross-generazionale. Molto più plausibile l'arrivo di un Bayonetta 3 o di un ripescamento casuale tra qualche IP dimenticata come ad esempio F-Zero. Potrebbe essere anche un buon momento per continuare la linea evolutiva delle mini-console, ma non dimentichiamoci che fra una decina di giorni uscirà il Game & Watch celebrativo per il 35esimo anniversario di Mario, e non so quanto converrebbe a Nintendo andare a sovrapporre due prodotti del genere. E visto che ci siamo, a mio avviso i festeggiamenti per il compleanno dell'idraulico baffuto mettono in pausa, almeno fino ad aprile dell'anno prossimo, l'arrivo di una virtual console o l'inclusione di cataloghi aggiuntivi all'interno del servizio Nintendo Switch Online. Quello che possiamo aspettarci al massimo è la sporadica aggiunta di grandi classici venduti singolarmente, come ad esempio è accaduto per il primo Fire Emblem. E in chiusura, Nintendo potrebbe decidere di procedere con cautela durante dicembre. In fondo, da settembre a questa parte abbiamo avuto mesi così densi che è facile aver accumulato tanti titoli ancora da finire o magari proprio da iniziare. E con lo sguardo del pubblico tutto rivolto verso le console di nuova generazione, potrebbe non essere una scelta così sbagliata quella di rimanere in silenzio per un po', aspettando il momento propizio per ritornare alla carica in grande stile. E voi poracci cosa ne pensate? Quali saranno le strategie di Nintendo? E cosa vi aspettate per il mese di dicembre? Non vedo l'ora di leggervi nei commenti. Se il video vi è piaciuto vi invito a lasciare un like e a iscrivervi al canale attivando la campanella delle porotifiche per supportare il canale ed essere sicuri di non perdervi i prossimi appuntamenti. Io sono il Poro Prediction, Michele Dicembre, ciao!